buongiorno e bentrovati a una nuova puntata della rubrica domanda risponde oggi non possiamo far altro che parlare del concorso ordinario di infanzia e primaria bandito proprio ieri andiamo alla prima domanda il non presentarsi alla prova scritta del concorso nel giorno ora e sede stabiliti con avviso pubblico sul sito del ministero comporta lo slittamento della prova ad altro giorno purtroppo no la mancata presentazione nel giorno ora e sede stabiliti annorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore comporta l'esclusione della procedura concorsuale quindi da quanto disposto sul bando se un aspirante dovesse essere stato contagiato dal covi 19 quindi impossibilità da presentarsi a svolgere la prova sarà escluso dal concorso salvo poi magari ecco attraverso qualche sentenza venga poi recuperato e fatto slittare seconda domanda chi supera la prova scritta come verrà a conoscenza del voto ottenuto della sede date ora di svolgimento della prova orale chi passa alla prova orale e dunque supera almeno con 70 su 100 la prova scritta dovrà sapere che tale prova da parte del competente usr ufficio scolastico regionale verrà comunicato esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso fatta nel luglio 2020 saprà anche attraverso tale comunicazione del voto conseguito nella prova scritta della sede e della data e dell'ora di svolgimento della prova orale almeno 20 giorni prima dello svolgimento della medesima terza e ultima domanda quante saranno le tracce delle prove orali e quanto tempo prima verranno estratte per ogni singolo candidato le commissioni predispongono il numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova appunto delle tracce ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova le tracce estratte chiaramente sono escluse dai sorteggi successivi speriamo di essere stati utili con queste risposte alle domande che ci avete posto ci vediamo il prossimo mercoledì arrivederci a tutti